Nella terza batteria troviamo Alessandro Curto in corsia 1 Leonardo Zanotto in 2 Paolo Ferrarese in 3 Matteo Gibin in 4 Dusan Milivojevic in 5 Filippo Gazziero in 6 Andrea Poiesi in 7 Enrico Emanuele Rollo in corsia 8 Tanto i ragazzi stanno lavorando per ripristinare il prima possibile lo schermo con i tempi fin quando non sarà possibile appunto visionare i tempi andrò io a leggere i responsi ufficiosi di tutti gli atleti in basca intanto diamo gli ammessi comunichiamo i finalisti dei 200 stie libero ragazzi nati 2004 miglior tempo Massimo Chiarioni 2.4 e 13 con lui in finale Andrea Lanzarini Riccardo Cendron Davide Agnolin Medad Diuricic Luca Farinella Francesco Della Mea Nicolas Bottoli ultimo tempo 2.8 e 57 0.7 0.7 0.7 Grazie. Grazie. Grazie.